Il PON 2014-2020 Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento Il Programma Operativo Nazionale, PON, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il periodo 2014-2020 offre alle scuole l'opportunità di accedere a risorse comunitarie e aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla buona scuola 3 miliardi di euro complessivi 2,2 miliardi circa per la formazione di alunni, docenti e adulti 800 milioni per laboratori, attrezzature digitali per la scuola e per interventi di edilizia Rivolto alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione di tutto il territorio nazionale Il PON è articolato in quattro assi istruzione, infrastrutture, capacità istituzionale e amministrativa, assistenza tecnica Partecipare è semplice, grazie anche a un sistema informativo in grado di gestire e monitorare ogni fase del programma Il MIUR pubblica un avviso online La scuola inserisce i dati richiesti nell'area dedicata alla candidatura Il dirigente scolastico inoltre salva, firma digitalmente e invia il progetto in formato PDF all'autorità di gestione I piani inoltrati sono valutati e ordinati in una graduatoria in base alla quale vengono autorizzati Le autorità di gestione, di certificazione e di audit effettueranno gli opportuni controlli durante le varie fasi del progetto Una delle grandi novità della programmazione 2014-2020 è la semplificazione dei costi per snellire il processo amministrativo e velocizzare l'utilizzo dei fondi europei Come? Introducendo per i progetti di formazione sotto i 50.000 euro costi unitari standard definiti preventivamente dall'autorità di gestione In questo modo il controllo avviene verificando non i giustificativi di spesa, bensì l'effettivo svolgimento delle attività Grazie!